Il grande salumificio italiano è la società del gruppo Bonterre che si occupa di salumi e insieme alla divisione dei formaggi appunto formiamo il gruppo Bonterre. Qua a Modena ci occupiamo principalmente della produzione del salame e della mortadella. Inoltre qua a Modena abbiamo 12 linee di affettamento che appunto affettano principalmente i salumi che produciamo. Il sistema Moneo della IFM l'abbiamo installato all'interno del reparto mortadella. Sì perché grazie all'aumento dei volumi che abbiamo avuto in questi anni le macchine erano stuposte a forte stress e quindi soggette a rotture improvvise che danneggiavano sia la produzione che la produttività. Grazie a questo sistema di monitoraggio riusciamo a prevenire la rottura della macchina e programmare i fermi per la sostituzione dei pezzi che rischiano l'interleggiamento. È stato molto interessante questo tipo di progetto perché oltre all'aspetto specifico dell'applicazione sullo stabilimento di Modena abbiamo voluto estendere questo tipo di applicazione anche a altri due stabilimenti produttivi siti dove avevamo le stesse criticità sulle linee di produzione della mortadella. È stato importante anche verificare la possibilità di mantenere il software Moneo come supervisore unico montato su un server centralizzato presso lo stabilimento di Modena e gli stabilimenti satelliti di Zola 3Dose e Reggello potessero accedere in real time tramite una connessione VPN. Abbiamo idea di estendere il progetto anche alle altre macchine sensibili sul processo produttivo e anche le macchine più potenti che generano le nostre utilities quali i compressori frigoriferi, i compressori aria, pompe del vuoto. Il software Moneo, oltre a gestire questa analisi vibrazionale in real time, è già dotato di un modulo pronto per applicare l'intelligenza artificiale a livello sia di macchine che da integrare all'interno dei nostri processi produttivi in modo da avere un corrispettivo sia sulla fase di produzione che sulla fase di manutenzione. Il mio lavoro è cambiato a livello manutenutivo perché abbiamo degli strumenti in più che ci permettono di vedere lo stato di usura dei nostri macchinari e questo ci aiuta eventualmente nella sostituzione. E comunque è bello anche il sistema che quando ci sono delle problematiche arrivano le mail, quindi in tempo reale si sa se c'è un problema subito, quindi uno va a visionare il problema e in base a questo riesce a risolvere. Conosciamo noi FM come azienda di fornitore da più di 15 anni. Negli ultimi tre anni invece abbiamo sviluppato insieme direttamente un progetto di partnership con l'azienda su dei progetti particolari che richiedevano il supporto diretto della casa madre. La collaborazione con i FM è stata fantastica già dall'inizio, sia a livello tecnico-commerciale e sia perché è stato centrato subito l'obiettivo da raggiungere. Grazie a tutti.